Siamo qui alla giornata di Orienta Puglia con la professoressa Angela Di Gregorio dal liceo Francesco De Santis di Trani. Può dirci qual è la sua impressione per queste giornate, per l'organizzazione di questo evento? Perché per i ragazzi dovrebbe essere importante partecipare? L'impressione è assolutamente positiva perché occasioni del genere sono preziosi per i nostri amici per trovare una bussola all'interno delle molteplici proposte che il mondo universitario e il mondo dei percorsi post-liceo riserva loro. Infatti accompagnando i nostri ragazzi che peraltro sono abbastanza liberi di muoversi tra gli stand ho potuto registrare la curiosità da parte degli alunni ma anche la soddisfazione per aver scoperto delle piste per il futuro fino a pochi minuti fa per loro non conosciute. Quindi benvengano occasioni del genere che favoriscono veramente un primo momento di orientamento per i nostri alunni che poi man mano andranno a riflettere su quello che hanno visto oggi e a decidere per quanto riguarda i percorsi futuri.